Può un personal trainer in soli tre mesi passare dalla versione mummia imbronciata alla versione speaker disinvolto davanti alla telecamera? Sì, se hai la guida giusta. Ciao, sono Fabio e sono un personal trainer. Lavoro e vivo a Catania. Alleno uomini e donne che vogliono tornare in forma e hanno poco tempo disponibile, incontrandoli due volte alla settimana per un'ora. Da oltre dieci anni mi pubblicizzo online e qualche anno fa ho capito che stavamo vivendo nell'era dei video. Ho provato a registrare qualche video mai andato online e dopo alcuni pessimi risultati ho detto fare video non fa per me. Dimmi la verità, anche tu hai vissuto un'esperienza simile alla mia. Ho messo nuovamente da parte per qualche anno il sogno di andare in video ma a capodanno 2018 durante la solita redazione dei buoni propositi ho scritto pubblicare il mio primo video online entro quattro mesi. Ho accettato che anche io avrei avuto bisogno di un personal trainer, di una guida, di un personal trainer per andare in video. Così il 2 gennaio ho contattato Chiara che seguivo da qualche mese su Facebook e su YouTube e iniziato subito delle lezioni individuali su Skype. Chiara ha una fortissima capacità empatica e le sue lezioni erano entusiasmanti e piene di correzioni. Ciò che ho apprezzato maggiormente del metodo di Chiara è la sua disponibilità fuori dalle lezioni. Sempre pronta a offrirti suggerimenti e spunti di miglioramento per i compiti che mi assegnava per casa. Il metodo di Chiara insieme alla mia ferrea disciplina mi hanno permesso di pubblicare il mio primo video online il 9 aprile del 2018 e da quella data pubblico costantemente un video a settimana. Con notevoli risultati per la mia immagine da professionista e per il mio business. Sai cosa mi entusiasma maggiormente del metodo di Chiara? Ho acquisito la capacità di scrivere in modo affascinante gli argomenti per i miei video e in questo momento mi occupo da solo del mio progetto online. Saltoriamente chiedo esistenza a Chiara. Come si fa con un personal trainer per mantenere elevata la motivazione e perfezionare il metodo. Se sei un imprenditore o un libero professionista e hai vissuto le mie stesse difficoltà affidati al metodo di Chiara. Ciao e buon video anche a te! Ciao e buon video!